ciao caro amico del leone andiamo a vedere anche per te l'oroscopo settimanale andiamo a vedere la settimana dall'otto al 14 giugno 2020 ti ricordo che naturalmente fai bene a seguire questo video per il tuo segno solare per il tuo segno zodiacale ma ascolta anche segui anche l'oroscopo per il tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna per avere una previsione più precisa più accurata va bene quindi sono questi tre video che dovresti ascoltarti andiamo a vedere la settimana per il segno zodiacale del leone cosa accadrà quindi sono cadute 200 segno del leone ma guarda qui sembrerebbe una settimana insomma niente male sinceramente cambiamenti qui si cambiamenti ne vedo quante tu ne vuoi caro amico leone cari leoncini qui ci sono cambiamenti 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 oddio uno abbastanza grosso abbastanza grande già successo qui c'è proprio o sta accadendo proprio adesso qui c'è proprio un gran rivoluzionamento un gran cambiamento qualcosa è finito qualcosa inizierà si riaprirà ma andiamo per gradi allora qui c'è un amicizia o una comunicazione dipende un po naturalmente dalla tua situazione di partenza che è stata chiusa o semplicemente che non c'è nel senso che non c'è nulla c'è un tabula rasa in questo momento diciamo ma qui io posso vedere siccome vi vedo un bel giovanotto in special modo se sei donna se sei femmina qui c'è un bel giovanotto interessato a te che potresti o conoscere perché qui ci posso vedere anche una conoscenza iniziale quindi o vi siete appena conosciuti o vi state iniziando a conoscere adesso magari anche solo virtualmente non lo escludo perché vedo tanta comunicazione quindi potrebbe essere una comunicazione proprio via etere no tramite internet o semplicemente con i messaggini ok qui c'è comunicazione fatto sta che qui praticamente vi vedo a un certo punto fissare qui c'è un prendere un appuntamento di un qualche tipo io credo che sia sempre con questo giovanotto con questa amicizia diciamo sì di cui vi stavo parlando ma potrebbe anche essere d'altra natura anche perché qui ci posso vedere anche una ragazza bruna una morettina quindi non so se siete voi o se avrete a che fare anche con questa ragazza per qualcosa durante la settimana va bene ma anche dicevo che ci posso vedere anche il lavoro che c'è un movimento di denaro e di lavoro quindi questa è una settimana in cui qualcosa si è chiuso si è fermato si è tagliato non c'è ma c'è anche un nuovo inizio l'inizio di un qualcosa sia che possa riguardare il lavoro vedo movimenti di lavoro ma anche movimenti di denaro detta proprio sinceramente qui si comincia diciamo a raccogliere qui si è il classico no si riaccoglie ciò che si è seminato è proprio il caso di dirlo ok quindi si comincia a raccogliere i frutti del proprio lavoro lavoro nel vero senso della parola quindi magari avete ripreso a lavorare magari semplicemente iniziato un lavoro c'è il primo stipendio bla 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 quindi qui si fa qui c'è il fare 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 lavorare ma qui ci vedo anche uno spostamento o più d'uno magari anche semplicemente appena fuori città ma lo vedo qui ci si muove ci si sposta si fa qualcosa fuori ma vedo anche questa è una bella cosa anche una ci potrebbe essere semplicemente un viaggio di piacere quindi magari e ne so io andate al mare andate in montagna andate dove vi pare ok quindi anche un movimento uno spostamento per svago per divertimento va bene non è detto sia solo di lavoro qui ci sono dei soldi ci sono dei denari vi dicevo c'è il prendere un impegno un appuntamento con qualcuno ci potrebbe per alcuni di voi essere anche proprio un aiuto in denaro vi potrebbe arrivare penso sì a chi ha lo stipendio ma anche a chi ad esempio ha un aiuto dallo stato i soldi dall'inps bla 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 o notizie riguardanti questa cosa questa cosa qui andiamo a vedere un pochino anche le carte dell'oracolo cosa aggiungono quindi qui fanciulle fanciulli le vedo carte molto positive ci sono comunicazioni che arriveranno qui ci potrebbe essere una passione una simpatia che nasce con un ragazzo che prosegue se vi siete conosciuti da poco perché qui mi paiano parlare queste carte di un qualcosa di neonato proprio nato da poco o che addirittura sta nascendo proprio durante questi giorni della settimana va bene leone andiamo a vedere un po l'oracolo cosa aggiunge per te segno del leone per la settimana ok un qualcosa che quindi matura diciamo e abbiamo visto questi denari cioè qui raccoglierai qualcosa che hai seminato in precedenza ok che siano soldi investiti che sia che arriva risposta su una richiesta che avevi fatto di denaro capito cioè arrivi alla alla risposta alla sua domanda non so come meglio spiegarmi vediamo leone 8 14 giugno 2020 vediamo a vedere ci sono dei dubbi quindi sicuramente lui la paura c'è e le sfide quindi qui sicuramente c'è stato da combattere dovrai combattere per l'amor di dio però io qui vedo proprio la risoluzione di qualcosa qui c'è un cambiamento di una situazione anche in modo abbastanza repentino è che te magari non 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 ti aspetti voglio fare una piccola domanda alle carte vediamo ancora non avevo posto la domanda è allora vediamo un po' sì qui ci potrebbe essere anche se si è conclusa un'amicizia una conoscenza una comunicazione con qualcuno questa potrebbe riprendere fanciulle e fanciulli se qui c'è qualcuno che vi ha ferito in qualche modo in passato non so se la scorsa settimana o il periodo ancora antecedente qui ci potrebbe essere non dico il fare pace però qui c'è una comunicazione con questa persona potreste rimettere le cose le cose a posto ma anche se si tratta di un luogo di lavoro che magari vi avevano tenute a casa va bene in cassa integrazione ora io non è che me ne intendo più di tanto di ste robe però insomma nel senso che è capito quindi se eravate a casa state messe a casa in fermo per motivi di lavoro qui potreste venire essere richiamate e qui c'è proprio la comunicazione e il movimento la ripartenza e poi vi vedo lavorare quindi voglio dire 2 più 2 fa 4 va bene caro leoncino adesso ascoltati pure quello il video per il tuo ascendente per il segno in cui la luna se questo video ti è piaciuto lasciami un bel mi piace ma in special modo fammi sapere se effettivamente la tua situazione e questa è come la stai vivendo un bacione e alla prossima